Ciao ragazzi, in questo video vediamo come fare a risolvere alcune delle tipologie più classiche di esercizi sull'iperbole che vengono tipicamente assegnati alle superiori. E per fare questo cominciamo subito considerando un primo esempio che ci chiedeva di trovare l'equazione dell'iperbole avente i vertici nei punti di coordinate più o meno 2, 0 ed avente un fuoco nel punto di coordinate 2 radice di 10, 0. Per risolvere l'esercizio notiamo innanzitutto che si tratta di un'iperbole avente i vertici in due posizioni simmetriche rispetto all'origine sull'asse delle ascisse e quindi l'equazione sarà del tipo x quadro fratto a quadro meno y quadro fratto b quadro uguale ad 1. Sapere poi che l'ascissa dei vertici è in particolare 2 o meno 2, a seconda naturalmente di quale dei due vertici stiamo considerando, ci permette subito di concludere che il parametro a deve essere uguale a 2, perché infatti se ricordate il parametro a che compare nell'equazione dell'iperbole è proprio quello che ci diceva quanto dista ciascun vertice dall'origine e nel nostro caso questa distanza è 2. Ci resta a questo punto da utilizzare l'informazione relativa al fuoco, infatti sapere che uno dei due fuochi si trova nel punto di coordinate 2 radice di 10, 0, ci permette subito di concludere che il parametro c, che se ricordate era quello che quantificava la distanza del fuoco dall'origine, è uguale a 2 radice di 10. È chiaro però che essendo l'obiettivo dell'esercizio trovare l'equazione dell'iperbole, i parametri che interessano a noi sono più che altro a e b e visto che a è noto dobbiamo a questo punto trovare un modo di sfruttare questa informazione sul parametro c per ricavarci il parametro che ci manca ovvero il parametro b. Per fare questo è sufficiente ricordare che c è uguale alla radice di a quadro più b quadro, da cui segue subito invertendo la formula che b quadro deve essere uguale a c quadro meno a quadro. Non resta quindi che sostituire a c ed a i due valori che avevamo trovato prima per concludere che b quadro deve essere 36. Notate che non è formalmente necessario che troviamo b visto che nell'equazione compare direttamente b quadro, quindi una volta che noi abbiamo b quadro siamo contenti e possiamo quindi concludere che l'equazione dell'iperbole che stavamo cercando è x quadro fratto 4 meno y quadrato fratto 36 uguale ad 1. Qui sulla destra vi ho riportato un plot realizzato con Wolframalfa del nostro iperbole ma volendo si poteva realizzare il disegno anche a mano molto rapidamente. È sufficiente se ricordate trovarsi i due asintoti, segnarsi i due vertici sull'asse x e poi sostanzialmente il gioco è fatto. Se qualcuno di voi avesse dubbi sulla procedura da mettere in campo per disegnare l'iperbole potete dare un'occhiata al video precedente dove ne abbiamo parlato. Vediamo adesso un secondo esempio che ci chiedeva di trovare l'equazione dell'iperbole avente i due fuochi nei punti di coordinate 0 più o meno 5 ed avente per assintoti le rette di equazione y uguale più o meno 4 terzi x. Per rispondere alla domanda notiamo innanzitutto che il nostro iperbole ha i fuochi in due posizioni simmetriche sull'asse delle y. Dunque la sua equazione sarà della forma x quadro fratto a quadro meno y quadro fratto b quadro uguale questa volta a meno 1. Inoltre essendo noto all'ordinata di questi fuochi possiamo anche immediatamente ricavarci il valore del parametro c. Sapere poi che gli asintoti dell'iperbole sono le rette di equazione y uguale più o meno 4 terzi x ci consente di ricavare subito il rapporto tra i coefficienti b ed a che compaiono nell'equazione dell'iperbole. Infatti se ricordate gli asintoti dell'iperbole hanno equazione y uguale più o meno b fratto a per x e quindi si ricava subito che nel nostro caso il rapporto b fratto a è uguale a 4 terzi. A questo punto quello che dobbiamo fare visto che l'obiettivo come nel caso dell'esercizio precedente è quello di trovare l'equazione dell'iperbole è utilizzare questa coppia di informazioni che abbiamo per ricavare il valore dei parametri a e b che sono quelli che poi compaiono nell'equazione dell'iperbole. E come facciamo a fare questo? Beh innanzitutto ci conviene riscriverci c come avevamo fatto nell'esercizio precedente in funzione dei parametri a e b ed avremo quindi che c cioè la radice di a quadro più b quadro deve essere uguale a 5 e a questo punto non resta che prendere anche la nostra seconda informazione che lega tra loro i parametri a e b e metterla a sistema con la prima. Per risolvere questo sistema ci sono naturalmente tanti modi. La prima cosa che ci conviene fare è forse elevare al quadrato la prima equazione cosa che possiamo fare tranquillamente visto che stiamo ragionando con quantità positive e nel contempo nella seconda equazione possiamo esplicitarci b in funzione di a o se preferite a in funzione di b naturalmente non cambia nulla. Facendo queste due mosse otteniamo quindi che a quadro più b quadro è uguale a 25 e che b è uguale a 4 terzi di a. A questo punto possiamo procedere semplicemente per sostituzione quindi possiamo prendere la prima equazione e al posto di b ci mettiamo 4 terzi di a. Si tratta a questo punto di fare un po' di conticini bisogna risolvere a quadro più 4 terzi di a elevato al quadrato uguale 25 e dopo qualche passaggio dove io non ho riportato ogni volta il simbolo del sistema ragazzi ma capite che ci andrebbe, io adesso per fare prima e per questioni di spazio lo ometto, si arriva comunque facilmente ad a quadro uguale 9. Una volta trovato il valore di a quadro per vincere non ci resta che determinare quanto vale b quadro o se volete non ci resta che trovare b e per fare questo la cosa più comoda è prendersi l'a quadro che abbiamo appena trovato e andare a sostituire nella prima equazione del sistema. In questo modo si conclude immediatamente che b quadro che è uguale a 25 meno a quadro deve essere 16. Alternativamente uno poteva anche ricavarsi il valore di a da quanto ricavato precedentemente e nel nostro caso quindi a sarebbe stato 3 e poi andare a sostituire nella seconda equazione per ricavarsi b che sarebbe venuto naturalmente uguale a 4 e una volta trovato b bastava elevare al quadrato per concludere che b quadro è uguale a 16. Però visto che l'esercizio ci chiede l'equazione dell'iperbole e in essa compaiono direttamente a quadrato e b quadrato non è indispensabile trovarsi a e b ma possiamo anche accontentarci dei loro quadrati. In ogni caso sia che abbiate optato per una strada che per l'altra si conclude che l'equazione dell'iperbole che stavamo cercando è x quadrato fratto 9 meno y quadrato fratto 16 uguale a meno 1 e qui sotto come prima vi ho riportato una rappresentazione dell'iperbole realizzata con Wolfram alfa. A questo punto vale la pena fermarsi un attimo e fare una riflessione. Tutti gli esercizi che ci chiedono di determinare l'equazione dell'iperbole e che troviamo in grandissima quantità nei libri di testo delle superiori si riducono sostanzialmente ad una coppia di informazioni che ci vengono date e che ci consentono di determinare o a o b oppure qualche relazione che lega i parametri a e b tra di loro. Se quindi capiamo come tradurre di volta in volta queste informazioni in delle equazioni capite che il gioco è sostanzialmente fatto perché come abbiamo appena visto nell'esempio 2 basta poi mettere questa coppia di equazioni a sistema per trovare agevolmente i parametri a e b. Vediamo quindi quali sono queste possibili informazioni che potrebbero esserci date dal testo e che ci consentono poi di determinare o immediatamente o dopo qualche passaggio i parametri a e b. La prima possibilità è che mi vengano forniti dal testo i vertici o uno dei vertici dell'iperbole e questo ci consente subito di determinare il valore del parametro a o del parametro b a seconda che l'iperbole abbia i vertici sull'asse delle x o sull'asse delle y. È un po' quello che abbiamo fatto nell'esercizio 1 se ricordate. La seconda possibilità è che mi vengano forniti i fuochi o comunque uno dei fuochi e in questo caso riesco subito a determinare il valore del parametro c che in termini dei parametri a e b è come trovare quanto vale la radice di a quadro più b quadro. Se invece mi vengono fornite le equazioni degli asintoti dell'iperbole allora ricavo immediatamente il rapporto b fratto a come accadeva nel secondo esempio che abbiamo visto. E se invece mi dicono che l'iperbole passa per un certo punto allora posso sostituire le coordinate di quel punto all'interno dell'equazione dell'iperbole ottenendo una nuova relazione tra a e b che poi posso mettere a sistema con eventuali altre relazioni o con altre informazioni che ho trovato prima. Queste sono le quattro casistiche più comuni di informazioni che il testo potrebbe darci e che ci consentono una volta combinate opportunamente di risalire all'equazione dell'iperbole. A queste andrebbe poi aggiunta una quinta tipologia di informazioni che è sicuramente meno frequente delle precedenti ma non così improbabile da trovare e che è quando ci dicono sostanzialmente che l'iperbole è tangente ad una certa retta. E qui del come fare ad utilizzare questa informazione sulla tangenza e più in generale delle rette tangenti all'iperbole parleremo dettagliatamente in uno dei prossimi video della playlist. Prima però nel prossimo ci occuperemo di iperboli equilatere e iperboli equilatere traslate quindi delle cosiddette funzioni omografiche. Io per il momento ragazzi vi saluto. Come sempre se avete trovato utile questo video ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarci sulla pagina facebook e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video.